E perché questo è evidentemente un tema essenziale, non ho salutato, quindi buonasera a tutti e grazie al Centro Studi Macchiavelli per avermi invitato. Non so se avete notato, ma da quando il centro-destra, chiamiamolo così, è al governo di questa nazione c'è una rinnovata curiosità, quantomeno, poi andrebbe descritta questa curiosità, sul tema cultura alternativa alla sinistra. Non starò a pesare le parole per motivi di tempo e di comodità. Ho sempre pensato che la cultura non sia né di destra né di sinistra, ma in questo caso faccio uno schema per razionalità. C'è una rinnovata curiosità. Questa rinnovata curiosità si declina a volte con i soliti, chiamiamoli, paraocchi, a volte con rispetto che però non va oltre la volontà di approfondimento, e poi diciamo lo spregio più totale. Io vedo a volte quando vado spesso al Ministero della Cultura, per vari motivi, e spesso diciamo noi nuovi siamo guardati tra l'invasore e il bifolco che entra al Ministero della Cultura. Quando francamente siamo mediamente delle persone che sanno leggere, sanno anche mediamente scrivere, addirittura alcuni non sono pure laureati. Quindi al di là delle battute c'è addirittura qualche professore universitario, che anch'io ne ho conosciuti addirittura non di sinistra, ma al di là degli aspetti anche un po' più di costume, questo è un tema essenziale. Qual è la cornice in cui oggi noi viviamo in questa nazione? Non c'è più, qualora ci sia mai stata, una egemonia culturale della sinistra, per quanto mi riguarda. C'è un potere, c'è un potere che si alimenta giorno dopo giorno e che, fateci caso, è sempre più inviperito perché vede questa invasione come possibile. È un potere culturale che deriva da anni, anni anche di poca sensibilità da parte della destra, questo lo possiamo dire tranquillamente, senza alcuna forma di possibilità di smentita, perché quando la destra è stata al governo di questa nazione e ha avuto responsabilità anche culturali importanti, avrebbe potuto iniziare, perché questa è una guerra che si vince non in un anno, probabilmente neanche in cinque anni, ma va affrontata, va quantomeno combattuta, e né alla RAI né in altri consessi lo è stato fatto. Su questo credo che siamo tutti inevitabilmente d'accordo, perché la situazione è sotto l'occhio di tutti. Quando nasce? Nasce quando tanti anni fa, negli anni cinquanta, nella redistribuzione dei poteri in Italia dopo la seconda guerra mondiale, il PC ha deciso che avrebbe dovuto occupare tutto ciò che riguardasse la cultura, dagli atenei, dalla scuola, dal cinema, dall'informazione, dai beni culturali, dal teatro, e posso andare avanti tantissimo. Questo è effettivamente accaduto. La mia seconda parte del ragionamento parlerà della qualità che ha prodotto, perché poi è la cosa più importante. Questo è accaduto e effettivamente quel mondo ha investito su anche generazioni, anche di persone che avevano qualcosa da dire, qualcosa da inventare, qualcosa da cantare, qualcosa da lasciare in termini creativi a 360 gradi. Qualcosa da insegnare, perché le cattedre sono piene di coloro che vengono da un certo tipo di percorso politico-culturale. La situazione in Italia è questa, tanto che coloro che negli anni non la pensavano come quel potere culturale, hanno avuto due strade, mollare, qualora, e sono stati tanti purtroppo, non si sono adeguati a quel sistema, non hanno preso tessere o comunque non si sono mimetizzati, e coloro che invece lo hanno fatto. Ci sono fior fior di esempi di professionisti tuttora nel mondo della cultura a 360 gradi, che vengono da un tipo di percorso giovanile politico e lo hanno abbandonato non perché non ci credessero più, ma perché non avevano sviluppi rimanendo dove erano nati e alcuni anche cresciuti. Poi, i decenni sono passati, la sinistra non ha mai avuto l'egemonia culturale vera e propria, perché se parliamo gramscianamente, l'egemonia culturale avrebbe dovuto corrispondere a un'egemonia di potere anche politico. E tranne alcuni brevi periodi, questo potere politico non c'è, e attualmente non c'è assolutamente, tranne che in qualche regione come la mia, ma questo è un altro discorso. Quindi non possiamo più parlare di egemonia culturale, è un errore profondo. Questo però potere culturale ha prodotto bassa qualità, perché se avesse prodotto una qualità alta, avesse avvicinato generazioni su generazioni alla produzione culturale, alla curiosità, allo studio, se ne potrebbe parlare. Ma siccome è sotto gli occhi di tutti quello che ha prodotto, quindi nel livellamento, nella non volontà di approfondimento, nel sedersi, e gli ultimi tre anni soprattutto, ma non solo, nel sedersi su, diciamo così, una ossessiva non curanza di quello che accade nel mondo e della storia italiana, e della cultura italiana, e noi possiamo dire che questo potere culturale ha fallito se non nel riprodurre se stesso. Questa è la finestra, la cornice in cui noi oggi proviamo a costruire un mondo diverso. In tutto questo c'è l'Italia, no? Nel senso che tutto questo è avvenuto non in una nazione che non ha una storia culturale, che non ha un'identità profonda. La prima ho sentito, quando mi è riuscito a raggiungervi, ho sentito parlare di questa identità, che è un'identità millenaria, e questo potere culturale ha fatto soprattutto il torto a questa identità millenaria. E allora quali sono le grandi sfide e qual è la più grande sfida che abbiamo davanti? Intanto rompere questo meccanismo di riproduzione conformistico, perché è solo e puro conformismo, sempre più verso il basso, come dicevo. Lo dobbiamo fare prima di tutto per coloro che si sentono quotidianamente chiamati fuori ed emarginati da questo potere conformistico, e sono tanti, coloro che hanno problemi negli atenei, nelle università, coloro che hanno problemi nelle scuole, coloro che non vogliono declinarsi come, diciamo, questo potere vorrebbe, il mainstream vorrebbe, e però non hanno la possibilità di avere palchi, palcoscenici, cattedre, grandi editori e quant'altro. Ma soprattutto noi facciamo un favore, evidentemente, all'identità italiana e alla cultura italiana, allacciata alla civiltà europea, mai slacciata dalla civiltà europea. E io mi sono chiesto come mai, e mi onoro per esempio di aver pubblicato, ormai sono a più di 200 titoli in catalogo, mi onoro di aver pubblicato anche il buon Emanuele Mastrangelo, con un libro essenziale che vi consiglio sulla cancel culture. Vi siete chiesti perché negli ultimi, grosso modo, dieci anni, sono nate tante case editrici, per lo più, evidentemente, indipendenti o piccole case editrici, la parola piccola case editrice l'ho sempre odiata, indipendenti è più sensato, sono nati centri studi importanti, sono nate fondazioni, sono nate riviste, alcune premiate anche a livello di quotidiani dal pubblico. E come mai, di fronte a questa vivacità, che chiaramente va messa in rete, che chiaramente va resa più, in un mondo più professionistico, eccetera, e poi aprirò un'altra parentesi, come mai dall'altra parte si perdono grandi numeri di copie vendute quotidianamente, settimanalmente, c'è una grossa crisi di un certo mondo editoriale, questo è evidente, no? I conti l'hanno fatti soprattutto loro, sono emersi poco, diciamo, nel livello di mainstream, ma li conosciamo. E come mai quel mondo culturale si sia sempre di più evidentemente aggrappato ai premi, ai grandi saloni editoriali, eccetera. Perché questo? Perché c'è una fetta immensa di italiani che o non è rappresentata culturalmente parlando, oppure evidentemente inizia a capire che c'è tutto un mondo culturale, editoriale, di produzione culturale, di agitatori culturali, che inizia a dare delle risposte. In realtà le dava già, ma la fetta di italiani che potrebbe questo mondo aggregare, contagiare, informare, rendere ancora più profondamente italiani e appartenenti a un certo tipo di cultura politica è molto più ampia. E da lì arriva l'esempio americano, ora io non sono mai stato un grande diciamo così innamorato degli Stati Uniti. Ci sono stato tante volte, ne apprezzo pregi e difetti. Però lì sono più avanti su tante cose. Lì ormai gli Stati Uniti e l'America sono divisi in due parti proprio a livello culturale c'è una sorta di guerra civile. Questo è chiaro. E lì sono più avanti la parte, entrambe le parti, ma insomma la parte più o meno corrispondente alla nostra italiana e europea dal punto di vista commerciale. Loro sono anni luce avanti. Cioè, quel mondo larghissimo del post-trampismo, ora veramente abbiamo detto che per motivi anche di tempo evitiamo di ricamare sulle declinazioni destra, sinistra, eccetera, premia quel mondo lì, cittadini normali dell'America profonda, ma anche che abitano a New York o in California, quindi sono in minoranza lì, premia commercialmente parlando un mondo culturale. In Italia questo per adesso non avviene. È anche un problema di chi produce questo, perché io spesso, ma non solo io, ho problemi ad andare in alcune librerie, perché ho una distribuzione ancora da migliorare e come me tanti altri. Ma se tutti noi togliamo le mie edizioni, ma tutti noi andiamo in Nicola a comprare il giornale con Cultura Identità, andiamo a comprare tanti altri prodotti che si trovano facilmente, non è che con l'online non si trova facilmente un prodotto, sebbene noi dobbiamo andare in libreria in Nicola a comprarlo, oppure dobbiamo invadere il Salone del Libro di Torino e andare agli stand, ma anche all'euro qua, evidentemente a dicembre, andare agli stand degli editori più coraggiosi, più liberi e più indipendenti. Noi aiutiamo non gli editori a assumere, a continuare a fare il bene anche delle proprie piccole imprese, ma aiutiamo quello di qui sopra, cioè la cultura italiana, a riemergere. E allora questa è la seconda sfida per arrivare non a un'egemonia del nostro mondo culturale, questo non ce ne frega, nulla. Noi dobbiamo arrivare all'egemonia della cultura, punto. E questa è la sfida, non per sostituirne un'altra, poi saremo bravi noi eventualmente a fare la differenza anche in termini numerici e qualitativi. E allora chiudo questo, poi non so se avrò tempo, io rimango qui, spero, fino alla fine del convegno, spero che i miei colleghi della Camera siano come al solito molto producenti, produttori di parole, ma la vera sfida è, siccome io vengo da un convegno del 6 aprile dove forse è stato citato troppo Gramsci, ma è stato citato anche come termini di relazione, di paragone, allora Gramsci no, divideva gli intellettuali tradizionali da quelli organici. Ecco, la vera sfida della cultura italiana con una formula è non avere né intellettuali tradizionali né intellettuali organici, è avere intellettuali organici all'Italia. Grazie. 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 Grazie.